Presidente Bonaccini, uno degli appuntamenti Arte Fiera che apre l'attività fieristica a Bologna, anche lei è qua, che cosa rappresenta per la città questo appuntamento? Mi pare sia una porta sull'Italia, sul mondo, visto che stanno aumentando così tanto i turisti stranieri in questa realtà, così come per fortuna anche in altre parti dell'Emilia-Romagna, l'investimento sull'arte, sulla cultura, sapete quanto come regione ci teniamo, avevamo promesso di triplicare i fondi sulla cultura in legislatura, li abbiamo già più che raddoppiati dopo due anni di governo e quindi manterremo fede all'impegno che avevamo preso durante la campagna elettorale a cui ben pochi, comprensibilmente, credevano perché generalmente quando c'era da tagliare si partiva da quei settori, una fiera importante che permette di mettere in campo una pluralità di presenze, artisti, proposte, insomma, credo che sia una gran bella occasione, un gran bell'appuntamento per mettere Bologna di nuovo al centro dell'attenzione. Grazie